Dante, bentornato a Verona. Con che spirito inizierai questo nuovo campionato in una squadra molto giovane? Entusiasmo, soprattutto quello, perché iniziare una stagione nuova è sempre entusiasmante. E poi soprattutto con l'impegno che mi ha sempre contraddistinto e così faranno sicuramente tutti i miei compagni. Tu sei stato già allenato da Gianni, lo ritroverai qui a Verona. Qual è il vostro rapporto? Come ti trovi con lui? Un rapporto ottimo, di stima e comunque di complicità. Si è sempre parlato tanto tra me e lui, comunque per capire gli obiettivi della settimana, gli obiettivi a lungo periodo, sempre stato a disposizione sua e quindi questo sicuramente ci aiuterà un po' a comunicare anche al resto della squadra le sue idee di lavoro. Quali sono i tuoi obiettivi personali e più in generale di squadra per questo prossimo campionato? Personali, questa è una stagione nuova, una sfida nuova. I personali sono quelli di migliorare ancora, comunque di raggiungere un'ottima intesa con tutti i compagni e poi di conseguenza giocare bene perché la cosa principale dopo gli obiettivi di squadra sono di crescita continua, un lavoro con la giusta attenzione e serietà e dopo i risultati, come ho detto altre volte, verranno da soli.